La questione della infermieristica si incardina in questa cornice di crisi della sanità pubblica e di momento di difficoltà della sanità pubblica, quindi gli elementi di analisi sono gli stessi. Sicuramente la professione infermieristica soffre di una carenza importante, come è stato già anticipato, ma come esce dai rapporti degli ultimi dieci anni, quindi non è un problema di adesso, ma a differenza della carenza medica, che è stato ben spiegato, è legata soprattutto prima all'accesso alle scuole di specialità, adesso a una programmazione dei numeri delle diverse scuole di specialità, la carenza infermieristica è una carenza strutturale. Cioè in Italia non esistono infermieri, quelli che ci sono sono occupati. Tant'è vero che quando ci sono stati provvedimenti di tamponamento dell'emergenza Covid in questi due anni, che hanno allargato... Quando siete stati eroi, improvvisamente. Sì, è una retorica che abbiamo compreso, l'abbiamo compresa, ma insomma le diamo il giusto senso, perché noi infermieri abbiamo continuato a fare durante la pandemia quello che facciamo prima e quello che stiamo continuando a fare adesso. Però in questi due anni sono stati allentati i vincoli sulla spesa di personale, perché come ricordava Paolo Russo, noi siamo ancora alla questione della spesa della pubblica amministrazione del 31-12-2004 meno l'1,4%. Cioè oggi i tetti di spesa sono ancora quelli, in un mondo che è cambiato. Sono stati allentati durante la pandemia, questo ha comportato il fatto che il Servizio Sanitario Nazionale ha assunto circa 30.000 infermieri. Ma non è che ha assunto infermieri che erano disponibili sul mercato, ha assunto infermieri che uscivano in parte dal privato, perché lo sbocco nel pubblico all'inizio è sempre più attrattivo, in parte da tutta la rete socioassistenziale, che è rimasta senza infermieri, drammaticamente. Quindi si sono solo spostati. Questo è il perché mancano strutturalmente. Adesso stiamo assistendo a un fenomeno inverso, perché dopo l'entrata nel pubblico in maniera provvisoria, temporanea e in qualche modo interinale, stanno ritornando nel privato, perché il privato mette in gioco modelli organizzativi diversi, remunerazioni diverse, valorizzazione della professionalità e delle competenze diverse, dove può. E quindi è un continuo, come dire, rubarsi, tra virgolette, personale sanitario qualificato, perché un infermieri che esce dal pubblico, che sa strumentare in 10-12 specialità o che ha gestito una terapia intensiva, ovvio che diventa appetibile come competenze nel privato. Il pubblico non riesce a riconoscere queste competenze, queste peculiarità e queste specializzazioni. di rendere la professione, oltre che qualificata, attrattiva per chi la fa. C'è solo lo stipendio? Non c'è solo lo stipendio, ci sono anche i modelli organizzativi e credo che anche i servizi precedenti l'abbiano messo bene in luce. C'è un tema, sicuramente la professione infermieristica è diventata molto poco attrattiva in Italia. Per quello che abbiamo sentito questa mattina, e provo a fare la sintesi, è una professione che non ha sviluppo di carriera in questo momento, verso la specializzazione clinica. È una professione che è appiattita, quindi, ed è una professione che spesso è anche dequalificata. Perché se in un modello organizzativo un'azienda ha una direzione strategica valutato di non assumere la giusta provvista di personale riguardo agli operatori di supporto, è evidente che quello che fanno queste persone da profilo, se non ci sono loro, lo deve fare qualcun altro, e spesso gli infermiere, che viene utilizzato in maniera, come dire, anacronistica, e francamente anche poco valorizzante rispetto alla professionalità e ai percorsi di studi che ha fatto. Così come ci sono strutture che hanno il problema opposto, perché la rete assistenziale e socioassistenziale spesso sta in piedi solo con operatori di supporto che si trovano a fare anche altro, perché mancano invece gli infermieri qualificati, quindi laureati o specialisti. Quindi intanto c'è da mettere in mano i modelli organizzativi. C'è un documento importante che è uscito recentemente, che è un primo documento di orientamento sugli standard di personale, che dovrebbe almeno aiutare a dare una cornice di riferimento, quindi sicuramente dobbiamo lavorare su quello, perché abbiamo bisogno di creare modelli che valorizzino le professionalità e i percorsi di formazione fatti dai professionisti infermieri, ma anche da altri operatori di supporto. C'è un problema di revisione degli aspetti di reclutamento e contrattuali. Noi stiamo reclutando nel pubblico, cioè il pubblico non riesce ad essere competitivo la maggior parte delle volte. Perché? Perché noi reclutiamo con normative che sono degli anni 2000 ed è cambiato il mondo nel frattempo. Quindi abbiamo anche bisogno di adeguare la normativa di reclutamento nel pubblico e conseguentemente tutto lo stato giuridico e quindi le ricadute fino agli aspetti contrattuali, che sono decisamente vincolanti. E questi sono, come dire, tra gli elementi principali che hanno generato questa scarsa attrattività della professione infermieristica. Perché i giovani, che sono sempre meno, se possono non scelgono infermieristica in questo momento. Quindi bisogna lavorare affinché diventi attrattiva. Noi abbiamo chiesto al governo e all'istituzione di mettere la questione infermieristica nell'agenda politica, che significa anche lavorare su tutto quello che c'è attorno. Quindi il rapporto con i medici, con i medici di medicina generale per quanto riguarda la parte territoriale, perché noi tra federazioni ci stiamo già lavorando, il rapporto con gli operatori di supporto, perché in questa logica in Italia manca anche quella che nei paesi europei è considerato il nurse assistant, l'aiuto infermieri. Quindi una figura intermedia che noi abbiamo abolito a metà degli anni Ottanta e che forse in una logica di ridisegno dei sistemi di proprietessa è una possibile evoluzione dell'operatore sociosanitario che ha un ruolo tecnico, quindi non è un ruolo sanitario, verso una figura sanitaria di supporto all'equipe infermieristica. Negli anni Ottanta c'era l'infermiere generico, che era cosa ben diversa dall'allora infermiere diplomato. E questa definizione di competenze complementari aiutava a lavorare all'interno dell'equipe. Quindi io credo si debba un pochino rimettere al centro la questione infermieristica, lavorando sulla revisione dei percorsi formativi, sulla revisione degli inquadramenti e dei modelli organizzativi, ma anche su una filiera assistenziale, perché se i numeri e le carenze sono quelle che ha detto Paolo Russo all'inizio della trasmissione, è impensabile, ma neanche fra dieci anni l'Italia potrà avere 200.000 infermieri in più. Forse loro dobbiamo ragionare di creare una filiera assistenziale che abbia l'aiuto infermiere, l'infermiere generalista, l'infermiere specialista. Però credo che noi dobbiamo anche forse magari anche confrontarci ulteriormente, ma cambiare un pochino la narrativa sulle case della comunità, perché se noi la leggiamo come un nodo di una rete multiprofessionale, multiservizio e interistituzionale che c'è sul territorio, quindi la case della comunità che tiene in rete, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo specialista ambulatoriale, l'infermiere di famiglia e comunità, l'assistente sociale, il comune, l'RSA, l'RSD, tutta la rete ricchissima che c'è sul territorio, sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale, allora questo potrebbe avere un senso. La case della comunità non può essere il contenitore dove è dentro tutto lì, perché uno in 50.000 abitanti non è a prossimità, però è un po' un nodo della rete strategico, una sorta di centrale operativa che interconnette e interseca i percorsi di continuità assistenziale e tiene in rete tutti i professionisti ma anche tutte le istituzioni. Questo è più facile nei piccoli centri o nei grandi centri? Anche nei grandi centri. Perché poi dentro la casa di comunità una serie di servizi ci sono ma deve essere appunto riconoscibile dal cittadino per evitare che vada in pronto soccorso dove va lì e trova una risposta e una presa in carico al bisogno che può essere anche solo amministrativo per l'invalidità e quant'altro ma può essere socio-assistenziale, può aver bisogno di trovare l'abadante o il caregiver. Cioè proviamo a ripensare una narrativa sulle case di comunità perché se noi ci aspettiamo di trovare apro la porta della casa di comunità e devo trovare dentro il medico non lo troveremo, cioè voglio dire non è questa la risposta e forse non è questa la funzione, l'unica funzione. Questo però è un pensiero da una che sul campo però io quando non ho bisogno dell'ospedale